Buongiorno, Stefano Stefani, ERVET, responsabile dell'organismo regionale di accreditamento per la certificazione energetica degli edifici. Oggi sono stato invitato a portare testimonianza relativamente alle nuove disposizioni regionali appunto in materia di certificazione energetica degli edifici. La Regione Emilia-Romagna fin dal 2009 ha attivato un sistema di certificazione energetica degli edifici che però dal 1 ottobre di quest'anno ha subito trasformazioni profonde perché è stato doveroso adeguarlo alla nuova disciplina comunitaria derivante dalla direttiva del 31 del 2010. Le novità sono cospicue quindi credo che ci sia un discreto interesse da parte dei professionisti, e sono oltre 6.000 in Regione Emilia-Romagna che praticano questa attività, a conoscere gli aggiornamenti relativi alla loro attività quotidiana.